Furto incredibile a Termoli, l'antivigilia di Natale in via Sturzo è sparita all'auto delle poste italiane con tutto il suo carico da consegnare. I termolesi dopo essersi lamentati per la mancata ricezione di lettere e regali natalizi ordinati via internet, solo ora sono venuti a conoscenza dell'anomalo furto in città. La conferma è arrivata dal punto di smistamento e distribuzione che si trova nel nucleo industriale di Termoli. Secondo le informazioni finora raccolte, il postino dopo aver terminato alcune consegne a piedi si sarebbe recato verso l'autovettura di servizio per poi accorgersi che il mezzo era sparito. Non si hanno maggiori dettagli né sulla refurtiva né sull'eventuale rimborso agli utenti. Le forze dell'ordine sono alla ricerca di elementi utili per smascherare gli autori.